Basta con le parole, serve concretezza, aprite il centro Margherita al più presto. È la richiesta dell'AIMA, l'Associazione Italiana Malati di Alzheimer, che ha un gruppo operativo anche nella città di Fano. Alcuni componenti erano presenti questa mattina nella sala di rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, dove è stato presentato il libro dei fratelli Pacassoni dedicato a questa terribile malattia. All'incontro era presente anche l'assessore, alle pare opportunità Sara Cucchiarini, che ha sostituito il collega Dimitri Tinti. La Cucchiarini ha assicurato che il Comune sta sollecitando la Regione per far rieprire la struttura ancora chiusa a causa dell'emergenza Covid-19. A riportare la sua testimonianza oggi è Maria Arguto, residente a terre roveresche e responsabile dell'AIMA di Fano. Suo marito frequentava il centro da un anno e mezzo. Sono anch'io in pieno in questa bufera, perché io ho mio marito di 65 anni, che ha una malattia molto grave, che è i corpi di Levi, che è una demenza di un'importanza molto rilevante. Quindi anch'io insieme a loro ho risentito molto in questo momento dell'assenza delle istituzioni, dell'assenza delle cooperative, di chiunque lavorava in questo settore. Siamo stati abbandonati da tutti, ha proseguito Maria. Nessuno ci presta attenzione e i fatti lo dimostrano. La società ci ha messi da parte. Non abbiamo avuto più nessun tipo di assistenza, quindi siamo stati lasciati a noi stessi e alle capacità che ognuno di noi poteva avere. Fisicamente e mentalmente non riusciamo da soli, la famiglia non riesce da sola, perché ci vuole un certo tipo di linguaggio con loro, ci vuole un certo tipo di modo di potersi porre, che spesso non abbiamo gli strumenti per poterlo fare. Maria ha poi lanciato un appello ai servizi sociali del Comune, alla Regione e alla Cooperativa che gestisce il centro. Non dimenticatevi degli ultimi, perché sono tutte persone che hanno pagato le tasse, hanno diritto ad essere curati e ad avere un servizio nella decenza dell'essere umano. È vero, questa disgrazia è capitata a noi, ma è una malattia di forte aumento. Io non lo auguro a nessuno. Le persone affette da questa malattia, ci spiega, non possono essere gestite e curate in ospedale o in una RSA. Serve una struttura specializzata e anzi, a proseguito, sarebbe necessario prevedere un servizio anche nelle ore notturne, perché il Margherita è un centro diurno. Io ho visto che lì lui trova il suo mondo, perché lui trova tutti quelli come lui, che gli danno squadra, fanno squadra e quindi si sentono forti fra di loro. E poi un personale fortemente specializzato, capace di saper con dolcezza, con grazia, con un amore verso la cura della persona, che è importantissimo. Il centro è fondamentale secondo noi.